A Diana Magestico come in un giardino Massimo Rebecchi Ma sicuramente era come abbiamo pensato di essere in una galleria d'arte in un albergue nel centro di Milano di Diana Magesti qui nell'albergo molto importante, molto conosciuto e al posto dei quadri ci sono le ragazze e i ragazzi che sono loro i veri quadri del nostro settore Ognuno interpreta se stesso, ognuno cerca nell'abito che noi abbiamo pensato per lei di aumentare tutte le sue caratteristiche, chi la femminilità, chi lo sport, chi il decorativismo quindi molti capi hanno dei piccoli interventi che le rende praticamente particolari per molte stampe, molta leggerezza, la voglia di femminilità Grazie